30.000 euro per chiamate ai cellulari nel 2016 è quanto accaduto con i cellulari di servizio del Comune dell'Aquila ed è per questo che il sindaco Pierluigi Biondi ora vuole vederci chiaro ed ha inviato nei giorni scorsi una nota ai dirigenti Paola Giuliani, Fabrizio Giannangeli e Lucio Nardis. Ad anticipare il contenuto della missiva è stato il quotidiano Newstown. Il primo cittadino in sostanza chiede chiarimenti su come sono stati assegnati finora i telefoni in dotazione al personale dell'ente e ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Insomma, un tentativo per vederci chiaro. Una lettera che ormai nel Comune è quasi di dominio pubblico in cui si evidenzia come nel 2016 siano stati spesi poco più che 30.000 euro per telefonia mobile. Una tabella dettagliata nella quale si può vedere quanto hanno speso dirigenti, tecnici ma non solo. Tra i membri della Giunta, ad esempio, l'ex sindaco Cialente ha speso nel 2016 1.670 euro. Poi ci sono Fabio Pelini, ex assessore al sociale con 689 euro, Pietro Di Stefano, ex assessore alla ricostruzione con 518 euro, Betti Leone, ex assessore alla cultura con 387 euro, Emanuela Iorio, ex assessore allo sport con 330 euro, ma anche Pierluigi Mancini, assessore al commercio, con soli 15 euro. Esempio virtuosissimo. Tra le spese, anche 443 euro di Alfredo Moroni, vicepresidente del Comitato per Donanza. Un uso legittimo, ovviamente questo, del telefono cellulare per scopi politici e comunali. Anzi, dalle cifre appare un uso piuttosto ponderato della risorsa telefono del Comune. Nulla di strano, insomma, fin qui. Più alte le cifre di membri del Consiglio Comunale. Quella più alta risulta essere di Antonio Nardantonio, con 2736 euro in un anno. Nell'opposizione di allora, per citare degli esempi, D'Eramo ha speso solo 200 euro, Alessandro Piccinini e Guido Liris, 72 euro a testa di sole sim dati. Fa discutere anche il caso di un'utenza di Pasquale Corriere, inserito come consigliere comunale, anche se la carica non è stata ricoperta da lui nella scorsa consigliatura. Secondo questi dati, avrebbe speso 227 euro del Comune senza avere una carica. Una tabella però incompleta, dove tanti assessori e consiglieri non figurano affatto, e di questo si dovrà scoprire il perché. Resta la questione dei costi alti. In un momento in cui invece ci sono tantissime offerte a prezzi davvero vantaggiosi. E poi la questione è venuta fuori, anche questa grazie al quotidiano Newstown, delle penne USB acquistate nel dopo sisma. 5.000 euro di chiavette che non sarebbero state mai usate. Ecco qui che la richiesta del sindaco Biondi appare più che legittima.